Sarà il caldo affoso di fine giugno o primi di luglio? Sarà che tenere l'alleato sulla graticola è un master dell'odierna politica? Sta di fatto che Fratelli d'Italia, anche quest'estate, torna alla carica e lancia un nuovo out-out all'amministrazione Rucco. Già l'estate scorsa il partito della Meloni aveva aperto una crisi di giunta che aveva portato ad un rimpasto dall'assessorato di Mattia Ierardi. Sul tappeto delle rimostranze di quest'estate 2020, le risposte, secondo Fratelli d'Italia, non adeguate dell'amministrazione, leggi Sindaco Rucco sulla vicenda Bocciodromo, sulla fusione IM-GSM, per citare alcuni punti. Pronti ad alzare il tiro non votando l'assestamento di bilancio che andrà all'esame del Consiglio Comunale, se l'amministrazione non darà i segnali attesi. Ma il Sindaco Rucco non ci sta all'out-out di Fratelli d'Italia e si rivolge direttamente ai cittadini. Lo dico chiaramente ai cittadini, mi rivolgo a loro. Questo è il bilancio post-covid, dettato da scelte legate all'emergenza, mancati introiti per il momento almeno 6 milioni nelle casse comunali che dobbiamo ripianare per poter andare avanti a governare e dare risposte ai cittadini e scelte strategiche per aiutare le famiglie e le imprese. Parliamo dell'adozione di un fondo di solidarietà da 2 milioni e 200 mila euro a sostegno di famiglie e imprese e di un contributo al teatro comunale che non riaprirà se non la fine autunno e di cui il comune è socio. Non votare all'assestamento significa bloccare tutto questo. Evidentemente qualcuno non si pone queste domande e io me le pongo e quindi andrò avanti per votare questo bilancio in questa maniera. E se non passa un problema perché naturalmente entro il 31 luglio il bilancio deve essere approvato altrimenti è previsto lo scioglimento del Consiglio Comunale. E forse è questo che vuole Fratelli d'Italia. Questo dovete chiedere a lui.